Si avvicina l'inizio dei saldi invernali in Toscana. La data delle svendite di fine stagione è stata indicata dalla regione, ricalcando il calendario deciso in altre zone d'Italia. Gli sconti inizieranno alla vigilia dell'Epifania e dunque il 5 di gennaio. Ci sarà tempo 60 giorni fino al 5 di marzo per potersi accaparrare prodotti a prezzi scontati. Federmoda e ConfCommercio ricordano le regole base. Innanzitutto la possibilità di cambiare il capo dopo che è stato comprato. Viene generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme al codice del consumo. Sempre a discrezionalità del negoziante anche la possibilità di far provare o meno i capi di abbigliamento. Gli articoli proposti in saldo devono avere carattere stagionale ed essere suscettibili di notevole depreciamento. Il negoziante ha l'obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale e di accettare i pagamenti con carte di credito.